Allora siete pronti? Siamo pronti perché noi dobbiamo presentarci, non c'è nessuno che ci presenta. Noi siamo i pentagrami e questa sera, come si è visto, siamo molto emozionati perché come dicevo già a tanti di voi, questa sera è proprio un'occasione molto particolare e sentiamo veramente il peso di questa serata, questa serata molto importante. E quindi siamo pronti del quinto anno che siamo qua a farvi compagnia ed è molto bello di vedere sempre tante persone nuove, gli amici musicisti che ci vediamo purtroppo solo una volta all'anno ma fa sempre il piacere, come avete visto, la musica è veramente stata bellissima fino adesso, lo speriamo di non rovinare i frutti. Allora siamo pronti per la prima volta? Questa sera siamo molto emozionati perché vi canterà questa canzone, il nostro Conte! Solti ! Solti l'arico! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti